Mua si gigni o si gigni, inchiusiamo a un ghiunghi Perché... Lollo perché sei... Lollo? Cosa? Ok ci siamo Come lo vedi a Lollo o Leo? Perché non ho la torcia? Allora Lollo lo vedo particolarmente scuro No no dico, allora lo vedo particolarmente scuro Sembra ombroso se posso dire, sembra un'ombra Il colore principale sicuramente è un colore abbastanza scuro simile al grigio E le faccio così Di corre Oddio il grigi Che cos'è? La Crab School era già vuota ma la chiave era sbloccata Quindi ho preso il mio libro dal mio co-seat Dal posto a sedere Me ne sono andato velocissimamente C'è una porta e qua c'è un'altra porta E vado di qua Bloccata E questo è brutto Perché le scale sono così lunghe? Ok Prima che lo sapessi ero in piedi In un passaggio antico Pensavo che la Cramus qua Era il terzo piano Non avevo mai sentito del basement Quindi della cantina Dove Cristo sono Allora ragà posso dire la mia Sì Che mappa di me Andiamo di là no? Aspetta volevo vedere Magari c'era qualcosa Infatti Qua c'è Lo fu da 1 Ho preso lo fu Normalmente così Sì ma stai correndo Ah ma corre lo stesso No no Dico così Aspetta veniamo Io ce l'ho fu da 1 Dobbiamo trovare lo fu da 2 Sicuro qua sotto Ho fu da 2 Bro cos'è quella roba lì in fondo? Quale roba? Che cosa? È una bomba È una botte bro No bro Questo si apre calma Cos'è sto rumore? Porco zio Cos'è? C'è un polipo Non è un polipo Un polipo normale Ma bro ma ci passo Non ci passo Vabbè sai cosa Non voglio vederlo il polipo Manco io lo voglio vedere Mi sono cagato in mano C'era Lollo che Qua si apre ciao Ma Lollo che paura Raga tocca trovare il coso 2 Sarebbe tipo una chiave immagino Eh sì ma Praticamente c'è tipo Una sorta di foglietto Magari c'è tipo le pagine di Slender Ok qua Ok No 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 Ok Serve un'ascia per romperlo Nico Non ce lo lascia Lascia che io sia Voi non l'avete visto Il tuo spirito più grande Non l'avete visto raga C'era un tipo con una testa strana Che gambettava in giro Che ti guardava Che carino Sì ho pure drone E qua troppo a trovare sta chiave 2 raga L'ho trovata Eh l'ho trovata anch'io Bravo Ezzinico E la 2 L'hai trovata anch'io Oh attento Nicoli Sì c'è scritto Ci sono scritto in giapponese Ma c'è il numero Ok Porco zio Porco Ma non si può entrare qui dentro Mi vuole mangiare qualcuno Ma ti vuole mangiare qualcuno Ah eccola lì la testa bro Ti sta mangiando i resti di qualcosa Sento qualcuno che mangia Sono quelli di prima Sì brutto Mi riesco a entrare Aspeggiano la vita E io non ho l'armi però Ma fanno un rumore brutto Eh serve un asciala per sfondare Ma io non ce l'ho lascio Scusami Niko Eh no la dobbiamo trovare Non è che la pensa qualcuno Il piccone bro Mamma mia C'è il piccone io no bro Ma non è che qualcuno di voi ha trovato la scena Non se ne ha reso conto No io ci ho provato ad aprile Non me la fa aprile bro Niko Dimmi Avevo visto qualcosa qua C'era tipo il tasto per interagire E sta pila di legno te lo giuro Eh per romperla bro No Ah prova a romperla Niko Ah qui in termini No non posso E a me non ce l'ho la Ma perché io il piccone non ce l'ho Ce l'ho la solo Niko Ce l'ho la solo Niko Cos'è sta roba? Eh pure io l'ho vista prima È quel cosola che mangia cose Forse è mini baggato Che schifo di porco Ma l'avevo vista anche prima Prova a spaccare qua Niko Tipo li botti ste robe No Ma non credo possa spaccare Nel senso ce l'ha lì e basta C'è qualcosa che non abbiamo fatto Ma dove? Forse su bro Su? Eh l'unica cosa che ci rimane Mi sa che è su Aspetta Mi controlla un attimo qua dietro Questa cosa qua mi puzza però eh L'hai provata a picconare Sta roba di Illuminata? Sta roba blu Sì ma se fosse col piccone Frate sarebbe una stronzata No no Non fa paura Ma perché non stiamo progressando raga Ma dopo mi sa che fa paura Out in ace with pliers Oh Più che altro Questo bordello bro Ho trovato una stanza segreta Una stanza segreta Sì ho sentito la porta Ma dove? Non mi vedete? Ok ho trovato La ho trovato l'ascia Ho trovato l'ascia Goduri era qua dentro? Sì Via 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 attenti che qua c'era il jumpscare Cioè c'era il tipo strano Ma va Ok qua c'è roba aliena sul muro Un po' di melma Una porta che si apre Qua ci sarà la 3 Sicuro Ecco aspetta Ho fura 3 Porca Che è successo? Te l'ho detto Che è successo? È Illuminata quello che corre in giro Adesso che non faceva paura Chi è? Cosa vuol dire Illuminata? Bro qui Qui l'ha passato un coso Bro bro mi ha ammazzato Porco Dio Porco No Cos'è un ram? Mi sto cagando adesso Senso vedere niente Ma non lo vedi Non mi sto sostenere armi A me ha ucciso bro Porco dici che era quello schifo Porca vacca m'ha ucciso Bro mi sto uccidendo Porca Tumulus Via 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 Allora aspetta respira 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 Non corre Non corre Non corre Non sto correndo bro Non sto correndo Non corre 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 Non ve lo dico che arriva Mi mangia No sai che cosa raga Vado io Dici Ah è piccolo No bro ma quello piccolo non ti fa niente E questo è quello lì il problema L'hai visto Porco Ragazzi quello là è enorme Lo vedo E mi ha ucciso 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 No L'avete visto Ma Nico non l'ha mai provata Quando senti il formicolino scappa Ok raga quando senti il formicolino scappate Che non riesce a prendervi praticamente Ma io ce l'ho già la chiave bro Non so se dobbiamo prendere altro Porco zio porco Porco è grosso No le mi sono mostrato anche la lingua Porca miseria Porco è grosso No porco zio Non penso a pensare così bro Mi sa che la gridi non è bastata Non è adatto a questo Dove sei tu un bologno Ma raga ma se tipo provassimo ad andare sotto Prima di tornare su E usare E per fare che cosa bro E per usare Il coso 3 Quello che serviva Però da lì se correte raga passate Da lì se correte passate nel chill Serviva le cose trebbero Porca vacca Vieni con me Nico Ti faccio vivere un'esperienza Raga 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 ho aperto le porte giù Serve un food a 4 per ora Però adesso Ho capito praticamente ci sono tipo 6 porte da aprire Se ho visto bene Sì Anche io sono su C'è scritto Remove the key Allora dobbiamo trovare una key Ma a me dice che bisogna togliere Remove vuol dire togliere Zio puledroni Ma non c'è scritto da me remove testa di c***o C'è scritto da me open Adesso che mi sposto un po' più qua Vedo remove the key Ma prima non l'avevo visto Quindi non ti puoi basare su qualcosa che io non vedo No L'ho visto con i piedi Anch'io 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 La corda Non mi ha visto non mi ha visto Corri 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 No dietro di me Corri Corri La torcia è spenta Bender No guarda 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 le cose che corrono Ma quelli non ti fanno un c***o Sono piccoli Cosa Porca vacca invece si Perché hai fatto questo rumore Un cane porco Che spavento Allora Dobbiamo trovare qualcosa Intanto qua Siamo sicuri che abbiamo messo tutto È vero Bro ma se andiamo in crouch Mi sa che non può prenderci Perché arriva dal soffitto Porco Sono più veloci io Guardalo guardalo Poi ti insegno Dobbiamo trovare la chiave Secondo me Per forza nel corrido Sì raga è in qualche chiave C'è in qualche porta qui No lì ti mangiano Eh no Non è che ti mangiano Mori con il gas Mori con il gas È vero Provate a disattivare la torcia Raga La svolta Non può vederti Non cambia nulla No non ti vedi Vedi No no Mi ha appena preso Mi ha mangiato L'ha annichilito proprio Ok sono in una stanza lì vicino ragazzi Mi sa che qua c'è Orcocano No no però dai Come faccio a sfuggire da sti cosi Ah ma è la nuova meccanica di gioco Ci deve essere qualcosa Allora qua È stata senza per forza bro Si è arrampicato Sì ma arrampica tizio No che non si arrampica No ok non c'è nulla qui Mi è crociato Posso aprire la porta Chiudigliela in faccia Guarda che brutto Porca bocca Ragazzi non vi riesco Cioè sono in una stanza ma Con calma Due stanze ho visitato Non c'è nulla Con calma Il mob è ancora lì È incastrato nell'angolo tipo Ok ok Stai amando qualcuno Ma non cammina all'infinito bro Ma allora a me Non so se ho avuto fortuna o meno Sto camminando crociato Con la luce spenta E non mi stanno toccando Bro Ecco a bo Porco Vai da lollo Zio puledrone Godo ti ha ucciso anche te Maledetto Sì Forse era qua Forse era qua Occhio quando fa Questo mi ha fatto paura Sento troppi formicoli Sento Non mi sogno stanotte Mi sa che è lui che mi sogna stanotte bro Zio puledrone Qua forse è la stanza Qua si può entrare nelle stanze Mi dite ma io Io sto cercando di entrarci Raga ma Bro io ne ho visitato i tre di stanze Non ce n'entro nulla Eh io pure bro Ci sto provando Ma alcune sono addirittura chiuse Ok hai trovato un'altra Ma qua c'è Nico Che fai Nico Che fai Nico E raga C'è un problema Che cacchio dobbiamo fare No bro 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 Orto cane Bro ma c'è il mob in fondo Mi sa che è lì la porta E come lo attiriamo il mob grande Ma dov'è la porta Ah dici dove c'è il puledro messo alla fine Sì Potrebbe starci effettivamente Allora come attiriamo quello là enorme Bro 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 Ma dici Dimmi bro Ce l'ho fatta Ma fare cosa Sono il futtissimo king Sono oltre quel mob alla fine E come cacchio hai fatto scusami Eh sono andato da destra bro Attento Attento Nico Non qua Vabbè Non c'è niente dentro bro Eh appunto No qualcosa ci deve essere per forza Dai non può non esserci nulla No non è Raga è in qualche stanza di prima secondo me Ma voi avete aperto qualcosa prima giù Aperto Di recente eh Avete aperto qualcosa di nuovo No bro Secondo me potrebbe essere No perché la stanza è la stessa Arco cane porco Sono nelle scale Allora abbiamo visitato Tipo io due tre stanze Ragazzi vi ripeto una cosa Siete sicuri che voi non avete trovato nulla? No no niente niente Io ho Oh aspetta ho trovato L'ho trovato ora bro La porta Ho fuda sette Cioè vabbè io faccio la faccetta Raga raga ho trovato ho fuda sette nella stanza di prima Ok Ma non è che abbiamo lasciato qualcosa? Mi sa che abbiamo trovato Lasciato indietro degli ho fuda bro E quindi che si fa? E li sto cercando Ho fuda sette non serve perché Serviva l'ho fuda di mezzo prima Perché anche qui? Perché anche qui? Tipo qua qua secondo me Qua per forza c'è uno fuda Mi serve 4 5 6 ok Mi serve uno fuda 4 5 6 Porca La chiave ci serve ragazzi Per andare su per forza Eh fra mezz'ora che la cerco Io quella sto cercando Per andare su Dov'è sta chiave? Secondo me è in giro per la mappa Almeno in stanza Che sembra Nico sembra ad ora l'esploratrice Dov'è questa chiave? Ehi La chiave dobbiamo trovarla Ma non sappiamo ancora Ci vuoi essere d'aiuto? Oh 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 Ho fuda 4 trovato ok Sì Porco 2 Ho fuda 4 del chiave Allora dobbiamo piazzare Aspetta che vado a piazzare gli ho fuda Dove meritano di essere piazzati Non è mai possibile Ma che cacchio sono sti ho fuda Che io non ho trovato niente Sono le chiavi zio puliedro No ok non c'è niente Eccolo ho trovato No perché magari c'è una Magari c'è la chiave Tipo dopo il 4 No ok ok ho capito bro Ho capito ho capito Praticamente quando finisci tutte queste porte Penso ci sia la fine Eh sì sì l'ho detto prima E se ho capito ne mancano ancora un paio Perché io l'ho fuda 7 quindi Ah ok allora sì sì Dobbiamo andare su bro Dobbiamo andare su Serve la chiave per andare porcozio su Te le trovo io Grazie Ma poi sono piccoli piccoli E poi quando ti fanno il jumpscare ti occupa tutto lo schermo Allora intendito Dobbiamo sbloccarlo da lì Allora Le scale Dobbiamo analizzare Perché secondo me la porta si può aprire Quando devi C'è scritto remove the key però Quindi secondo me la chiave La va tolta in qualche modo no Raga non potete andare in giro con il trenino Possiamo quello che vogliamo Se il gioco lo permette possiamo Fermo Qua 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 mi dici di interagire fra Dove Ma no era il salto Mi diceva salta No bro si è visto per un frame Ti giuro pensavo forse qualcosa qua dentro la scatola Aiuto No stai bro Aiuto No Nico perché ti stacchi sempre No bro mi so Oh aspetta Che c'ha Ho trovato una stanza che si apre Dietro il nostro paggato Ho trovato il Fukushima 5 Ma dove? Non penso sia Fukushima Ok ce l'ho ce l'ho ce l'ho Mi manca il 6 ragazzi Mi manca il 6 Sono Dove porcozio l'hai trovato? Qua bro Eh come te lo spiego Eh come te lo spiego È qua è qua è qua è qua Ma io qui c'ero stato mannaggia a me Ma anche io Dove è la 6? Dove è la 6? Boh ma secondo me solo Lollo c'ha la possibilità di interagire sui video gioco No 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 Non credo Ma se non è che uno è sopra? No ma sopra c'è Non disponibile No sopra è dopo Sopra è dopo Allora non vorrei che per la 6 io debba aprire la stanza 5 prima No c'è il mob È qua Sulle scale salta Io ho aperto la porta 5 e non c'è nulla nella 5 Qua non c'è il porcozio niente Mi manca solo il Fuda 6 Mi manca solo il Fuda 6 Si trova in una stanza Trovato Veramente? Quanto godo quanto godo Davvero? Apri qualsiasi cosa Finiamo la mappa Sì 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 davvero Ok ti aspetto Nico Com'è possibile? Ci sono stato lì rega Perché non l'avevo visto? Ma che cacchio ne so La 7 ce l'ho ce l'ho la 7 Dico mi vedi dove c'è no la luce rossa Alla luce rossa io sono Ah ecco ti Vabbè Venga venga Leutum Ti è passato di fianco il bro Via 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 L'hai tirato fino a giù bro L'hai visto? Non voglio vedere Perché mi sembra strana questa? Oh Andiamo? Che è sto sbocco? No di qua di qua Bro ma che figata Infatti è fighissimo Sembra Ma chiave Stranger Cocane Sembra Stranger cose Ci muove ci muove Correte raga Che pochierissimo Si muove Scappa Tumbulus Si scappa Oglia Ma ma quanto corre? Quanto corre? Oh cacchio Accelera No ma dove sono I cocorri Non posso andare all'infinito Sei qui Lollo Sei qui Lollo Ciao Tumbulus Ora per quanto ci insegue questo cosa Perdonatemi Non ti preoccupare Tu vieni No non mi sono spaventato Scappa 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 Sei pronti? Vai Luca Dete il mio passo Ora via Porco zio porco Guarda ho preso solo Leo Questo ha schivato Easy vai su Coda Ma che ci deve essere Che a me manco mi fa interagire Su sto gioco Adesso Andiamo Siamo in Egitto Non credo Benvenuti Eh ce ne prende le mummie bro Dai No porco Ragazzi non venite giù Ma che cacchio è? Bro ma come cacchio l'hanno fatta Sta animazione Ma sono fortissimi Ma che cute Bro questo ci ammazza Credo sia l'aggettivo Che lo descrive meglio Ma stai puoi entrare dentro No Si ha risposto mi sa Che cucciolino Ma non si muove Dobbiamo scappare dietro raga Porco zio porco Ma è che ci appare qualcosa davanti adesso Qua Cosa Best mappa di me Ever No penso sia finita Non lo so Spero di si What was that back there? È finito I can't wait to go home Sì ma io voglio andare a casa però Zio puledro E riparte in pazzesco No aspetta Si è aperta sta porta qua O vuoi dire che si sono aperta Si è aperta la porta numero uno No 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 non credo Si sono appena andato Non si sono aperte Bro 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 Mi ha fatto cadere giù Tente c'è la fine qua C'è il pesce Ho preso il pesce E la moneta E la skin di E la skin di Nico La moneta finale E la skin di Nico In attesa del leader del gruppo Era felicissimo Di aver preso il pesce